Per me è finita. Lasciatemi qui. Voglio stare solo con la mia famiglia. Sono tutti morti. Non credo che tu sappia quello che stai dicendo. La febbre. Hai delirato la maggior parte del tempo. Lo so, pensi che non lo sappia. Ma sono lucido ora. Tra cinque minuti magari potrei non esserlo più. Rick, so bene quello che sto dicendo. È questo che voglio. Lasciatemi qui. Ora aspetta a me. Ok? È una mia decisione. Non un tuo fallimento. Dice che è quello che vuole. Ed è ancora lucido. Sì, così sembra. Io direi che lo è. Prima al campo, quando ho detto che Daryl poteva avere ragione e mi hai azzettito, mi hai frainteso. Non sarei mai... d'accordo a... a uccidere un uomo a sangue freddo. volevo solo suggerire di chiedere a Jim cosa volesse. E penso che abbiamo una risposta. Lasciarlo qui. Andarcene via. Non sono sicuro di potercela fare. Non sta a voi decidere. A nessuno di voi. Ecco. Ecco fatto. Ehi. Un altro dannato albero. Senti, Jim. Sai che non deve essere per forza così. No. Va bene. C'è una prezza piacevole. Ok. D'accordo. Chiudi gli occhi, tesoro. Non lottare. Jim, vuoi questa? No. Servirà a voi. No. E io sto bene. Sto bene. Ti ringrazio per aver combattuto insieme a noi. Ok. E io sto bene. Grazie. Grazie.